Si è registrato, poco prima delle 10 di questa mattina, un tamponamento nei pressi dello svincolo di Battipaglia, tra una Renault ed un TIR, che procedevano in direzione Pestum, provenienti dallo svincolo battipagliese. Attimi di tensione quando la moglie del conducente della Renault ha accusato un lieve malore, probabilmente spaventata dal contatto. Sul posto un'ambulanza che ha soccorso la donna. Il traffico, che era già intenso, è andato in tilt. Poi, grazie all'intervento della Polizia Stradale e dei Carabinieri, la situazione è tornata alla normalità.